buonasera a tutti allora oggi parleremo di diciamo facciamo un salto nel tempo facciamo un salto del tempo alla scoperta della Firenze perduta perché se noi immaginiamo la città di Firenze ovviamente nella maggior parte dei casi quello che ci viene in mente sono i monumenti più comuni quindi il Duomo, il David, la primavera di Botticelli, l'Arno quindi abbiamo un'idea molto spesso di Firenze come se fosse una città immutabile nel tempo molto legata al Rinascimento ma anche a Dante al Medioevo non immaginiamo molto spesso che in realtà la storia di Firenze va veramente molto indietro nel tempo fino addirittura all'epoca degli antichi romani perché è stata fondata proprio nel primo secolo avanti Cristo dalle regioni romane come vedremo meglio poi nel corso della presentazione però ecco quello che vogliamo capire riuscire appunto a scoprire oggi è proprio questo che Firenze non non è rimasta sempre immutabile nel tempo è una città che ha subito notevoli cambiamenti notevoli trasformazioni che è una storia appunto che è molto molto antica allora per diciamo entrare subito un po nel nel mood di una Firenze passata una Firenze che è cambiata vi mostro subito questo video è una produzione di Firenze segreti misteri e leggende hanno riprodotto in 3d una mappa del 1584 del buon signore quindi riportando un po prendendo diciamo spunto dalla dalla mappa hanno un po ricreato quella che doveva essere la Firenze nella seconda metà del 500 non è un po' eccente Grazie a tutti. 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 i resti degli antichi monumenti, quindi si dice un riutilizzo delle spolie romane, quindi di edifici antichi che vengono riutilizzati come semplice fondamenta molto spesso di nuovi edifici ma anche proprio con nuove funzioni, quindi per esempio delle domus romane a volte vengono riutilizzate come chiese cristiane, quindi c'è un riutilizzo di questi ruderi e mano a mano ovviamente la città incomincia a diventare sempre più grande anche, quindi se noi vediamo l'espansione delle mura di Firenze, ecco che guardate, se noi prendiamo questa immagine vedete qui sono evidenziate le cerchie murarie della città di Firenze che mano a mano si allargano sempre di più, le ultime due, quella verde e quella rossa, sono le cerchie murarie che risalgono nel periodo di Firenze comune, quindi dobbiamo aspettare fino al 1173-1175 perché anche l'oltrarno, quindi la parte al di là dell'arno rispetto al centro cittadino, sia compresa dalla cerchia muraria. E poi l'ultima, l'ultima costruzione, siamo nel 1284-1333, viene incaricato l'architetto Arnolfo di Cambio di costruire questa cerchia muraria che è quella che rimane fino alla seconda metà dell'Ottocento, quindi sarà l'ultima cerchia muraria costruita e cerchia muraria che oggi è stata abbattuta, appunto ora lo spiegheremo meglio poi anche nel corso della presentazione, però nella seconda metà dell'Ottocento, quando Firenze diventa capitale, questa cerchia muraria viene abbattuta, però comunque ancora oggi diciamo che l'area interna a quella cerchia è un po' identificata come il centro storico di Firenze. E qui vediamo proprio l'ingrandimento di queste mura, ecco quello che vi dicevo, vedete qui doveva esserci l'anfiteatro, qui in maniera molto stilizzata si può vedere come l'anfiteatro si è stato poi riutilizzato, è diventato un po' un rudere, vedete qui ci sono gli archi, gli spalti, è diventato un po' un rudere ma viene riutilizzato per la costruzione di nuove abitazioni. Un solo ponte, Ponte Vecchio, e ponte che appunto poi prende il nome di Ponte Vecchio quando vengono costruiti ponti nuovi ed ecco che qua ne vediamo altri due. Quindi la città si ingrandisce, ora qui le mura sono, siamo andati oltrarno e quindi ovviamente serve la costruzione di nuovi ponti, le mura sono arrivate anche da questa parte e poi eccoci con l'ultima cerchia muraria appunto quella di Arnolfo. Se noi prendiamo una mappa, una cartina della metà dell'Ottocento ecco che in realtà tornano le stesse mura perché come vi dicevo sono quelle le ultime che ci sono rimaste. Quando Firenze diventa capitale e quindi siamo nella seconda metà appunto dell'Ottocento, nel 1865 per la precisione, Firenze diventa capitale del nuovo regno d'Italia. Quindi l'Italia si forma, si unisce nel 1861, i primi anni la capitale è Torino, però visto che il risorgimento italiano e quindi anche il movimento per l'unità d'Italia era nato dal regno di Sardegna e quindi dal Piemonte, avere la capitale a Torino non era una scelta molto tattica, provocava un po' dei malumori perché sembrava che in realtà il risorgimento non fosse stato altro che un modo per giustificare le mire espansionistiche piemontesi, quindi non andava bene. Allora le opzioni sono ovviamente in realtà la città che era stata scelta come capitale ideale era Roma, ma Roma era ancora sotto lo stato pontificio e quindi bisogna scegliere tra Bologna, Napoli e Firenze. Napoli non è ben difendibile, è sul mare, ci sono diciamo delle confusioni che sono provocate da una cattiva gestione dell'impero borbonico precedente, Bologna ancora troppo legata al papato e quindi alla fine si sceglie anche un po' per esclusione Firenze. I fiorentini non sono così contenti di questa cosa, addirittura Ricasoli che è il sindaco di Firenze dell'epoca dice che è una tazza di veleno che bisogna mandare giù, ma che in realtà loro appunto non volevano anche perché stanno che Firenze sarà una capitale provvisoria e infatti diventa capitale nel 1865, ma nel 1871 la capitale viene poi trasferita a Roma e quindi in realtà questo comporterà anche dei problemi, lo vedremo anche in seguito perché nel momento in cui Firenze diventa capitale in una città che contava circa 110.000 abitanti se ne riversano 30.000 in più, quindi 30.000 abitanti in più che chi sono? Sono funzionari dell'amministrazione pubblica, sono ministri, sono giornalisti, burocrati, quindi hanno bisogno anche di sistemazioni decenti, quindi nasce la necessità di ampliare la città, di creare dei nuovi quartieri residenziali e anche di rinnovare e riorganizzare il centro cittadino che doveva quindi essere più consono proprio al nuovo ruolo di questa Firenze capitale. Quindi iniziano dei lavori affidati all'architetto Giuseppe Poggi e Luigi del Sarto. Giuseppe Poggi si preoccupa dell'allargamento della città, Luigi del Sarto, del centro cittadino. Quindi il Poggi cosa fa? Abbatte le mura perché viene costretto, si può dire, dal comune di Firenze per allargare appunto la città, abbatte le mura, conserva però le porte, ancora oggi visibili a Firenze, e al posto delle antiche mura di Arnolfo, quelle che vi ho assegnato qui sulla mappa, oggi ci sono i viali di circonvallazione che collegano la viabilità di Firenze. La parte nord, quella segnata in rosso, è la parte che subisce maggiori perdite perché qui veramente non c'è più traccia delle mura, mentre nella parte sud abbiamo ancora dei tratti di mura rimanenti, soprattutto in questa parte che è Viale Petrarca, che collega Porta Romana a Piazza Tasso, si può dire, e qui ci sono ancora delle mura superstiti. Comunque con la creazione dei viali, poi il Viale dei Colli, si crea appunto quest'anello di congiunzione che va a sostituire le antiche mura. Ma entriamo proprio nel vivo della nostra città, quindi andiamo a vedere proprio effettivamente come cambia. Faremo un po' dei saltelli sia tra varie piazze e monumenti di Firenze, sia nel tempo, per capire effettivamente come è cambiata la città, se c'è qualcosa che è rimasto ancora oggi o se c'è qualcosa che invece è andato completamente perduto. E questa è un'immagine di Santa Maria Novella, tra l'altro questa è una fotografia che è interessante perché questo fa parte di un progetto di un gruppo di fotografi di Firenze Rifredi che hanno organizzato una mostra nel 2015 su Firenze Capitale e loro cosa hanno fatto? Hanno mescolato, si vuol dire, le immagini attuali, quindi vedete la facciata, qui ci sono anche le ambulanze, questa è la facciata attuale di Santa Maria Novella con dei dipinti, nello specifico dipinti di Fabio Borbottoni che è un pittore della seconda metà dell'Ottocento che realizza soprattutto vedute della città e le realizza prima di questi lavori di cui vi ho accennato e di cui parlerò anche molto spesso nel corso della presentazione, cioè questi lavori di sventramento e riorganizzazione del centro di Firenze che avvengono nella seconda metà dell'Ottocento e lui siccome realizza queste vedute prima di questi lavori ci dà una testimonianza importante di quelli che dovevano essere appunto gli scorci prima del cambiamento andiamo a vedere Santa Maria Novella e appunto, visto che si tratta di, come vi dicevo, faremo dei salti nel tempo torniamo all'epoca dei Romani perché qui, questa è una cosa che si dice molto poco, non è così risaputa però qui proprio accanto alla Basilica di Santa Maria Novella dove io vi ho evidenziato questo rettangolo giallo c'era il circo romano che cos'era il circo romano? allora ve lo faccio vedere meglio, ecco qui questo era il luogo dove doveva trovarsi tra Piazza dell'Unità e la Colonna del Trebbio per chi conosce un pochino Firenze comunque in questa, in quest'area e che cos'era il circo? il circo era un luogo dove si svolgevano degli spettacoli, delle competizioni aveva questa forma, a elliste questo, per farvi vedere un'idea questi sono i resti archeologici di un circo in Turchia, un circo romano e questa invece è la ricostruzione del Circo Massimo di Roma ovviamente a Firenze era molto più piccolo però per farvi capire la forma la forma era questa, elliste con le mete al centro cioè questi obelischi perché cosa si faceva qui dentro? si correva con i cavalli o con le bighe quindi una sorta di carretti, trainati sempre dai cavalli e si correva intorno in questa pista e chi arrivava prima vinceva a volte venivano coperti con l'acqua, riempiti d'acqua questi circhi e vi si svolgevano delle naumachie, quindi battaglie navali ecco come doveva essere un pochino più in miniatura il circo che si trovava qui a Firenze e probabilmente proprio per questo motivo proprio perché qui si svolgevano queste competizioni già al tempo dei romani nel 1571 Cosimo I dei Medici istituisce una competizione che ricorda proprio quelle romane cioè il Palio dei Cocchi e in cosa consisteva il Palio dei Cocchi? qui vediamo un dipinto di Giovanni Signorini della metà dell'Ottocento che ci fa vedere appunto la piazza gremita di persone che stanno sugli spalti assistendo proprio a questo Palio dei Cocchi che consisteva nel correre intorno ai due obelischi al centro della piazza con i Cocchi che erano appunto una sorta di bighe quindi così come si correva nel circo romano si correva anche in Santa Maria Novella quindi si faceva il giro della piazza con i cavalli e chi arrivava prima vinceva queste due colonne sono state poste solo successivamente nel 1608 poggiano su quattro tartarughe di bronzo del Giambologna prima di quella data si creavano delle mete posticce in legno che poi venivano eliminate ed ecco la piazza ecco la piazza vista dall'alto la piazza nuova di Santa Maria Novella è una piazza che ha subito dei lavori di riqualifica di risistemazione negli anni 2000 nell'800 guardate si presentava ancora aperta al traffico ci passavano le linee del tram vedete all'inizio degli anni 2000 c'è appunto un lavoro di riqualifica della piazza viene rifatto praticamente il pavimento la pavimentazione della piazza e vengono tolte diciamo tutti quelli che erano ingombri quindi c'erano i secchioni della spazzatura o panchine, parcheggi scompare ovviamente il traffico e scusate fino a pochi anni fa al centro della piazza si trovava una vasca marmorea circolare adesso anche quella è stata eliminata e al suo posto ci sono queste sette sedute perché queste sono sette panchine quattro in acciaio corte e tre in vetro appunto per le sedute dei turisti ed ecco qui i due operisti piazza nuova perché effettivamente ora nuova rispetto alla primissima piazza che c'era perché? perché anche la chiesa la chiesa è la chiesa di Santa Maria Novella perché effettivamente è nuova novella perché? perché in questa zona noi abbiamo testimonianza di un edificio religioso già dal 983 dopo Cristo però era non una basilica di queste dimensioni ma una semplice chiesetta di campagna che si chiamava Santa Maria tra le vigne perché veramente qui eravamo in mezzo al nulla in mezzo alla campagna appunto tra le vigne questa chiesetta poi viene ampliata nel corso dei secoli soprattutto quando arrivano i Domenicani in questa zona e la prima chiesa che viene ricostruita ingrandendo appunto quella che già c'era aveva un orientamento diverso quindi la facciata della chiesa si trovava qui e la piazza antistante della chiesa era questa piazza dell'unità poi quando si decide siamo alla fine del 200 di ricostruire la chiesa in maniera più grande ecco che cambia l'orientamento e abbiamo la basilica attuale la basilica che fino a una volta diciamo terminata la sua costruzione si presentava così guardate con la facciata non completa siamo nel 1420 la chiesa è completata ma manca la facciata verrà terminata solo nel 1470 da Leon Battista Alberti il quale vedete aggiunge questi pilastri laterali le colonne centrali e poi tutta la parte superiore fatta ex novo con queste volute che vedete non c'erano perché? perché viene commissionato questo lavoro dalla famiglia Rucellai un'importante famiglia di Firenze che viveva proprio in questo quartiere e quindi voleva che la sua chiesa fosse ovviamente completa andiamo adesso ci spostiamo in un'altra zona che è quella di San Giovanni quindi della piazza di San Giovanni allora vedete che siamo di nuovo all'interno delle mura all'interno delle mura romane e infatti se voi vedete allora se noi ci avviciniamo un attimo e prendiamo come punto di riferimento questo Deor del bar vedete e vediamo poi questa immagine ecco qui il Deor che abbiamo visto nella mappa e qui si doveva trovare proprio la porta settentrionale della colonia di Florenzia questa è la porta questo è il passaggio accanto alla porta due colonne circolari ecco come doveva essere la ricostruzione della porta questa è una cartolina di Corinto Corinti perché questi ritrovamenti archeologici ovviamente avvengono quando sempre durante quei famosi lavori che verranno portati avanti nella seconda metà dell'Ottocento per rimodernizzare la città quindi ovviamente smembrando tutto il centro vengono fuori tutta una serie di elementi archeologici e Corinto Corinti che era un architetto che aveva partecipato a questi scavi realizza delle cartoline che ci testimoniano i rimbenimenti trovati e anche la proiezione di quelli che dovevano essere gli edifici completi e queste per noi sono molto importanti una delle testimonianze importanti questa era la porta nord ma come cambia questa piazza nel corso dei secoli allora al tempo dei Romani era semplicemente appunto siamo nella zona proprio di confine della colonia a ridosso delle mura in epoca medievale già dal quinto secolo questa piazza comincia a diventare il centro religioso ovviamente in epoca romana non lo era perché il centro religioso era il Campiduglio e si trovava al centro della colonia vicino al foro lo vedremo dopo qui diventa la zona diciamo il centro religioso con nel medioevo quindi già dal periodo paleocristiano in realtà scusate quindi già siamo nel quinto sesto secolo e questa piazza doveva presentarsi così con il battistero presente come lo conosciamo noi oggi quasi comunque nella pianta perché è l'edificio più antico di piazza San Giovanni l'episcopio che era un diciamo centro religioso cittadino e poi la basilica ma la basilica non è il duomo che conosciamo noi oggi perché ancora quel duomo non esisteva esisteva un'altra basilica che era la basilica di Santa Reparata ed era molto più semplice guardate semplicemente attrenavate con un abside finale la stessa Santa Reparata poi nel tempo cambia quindi non rimarrà sempre quella semplice chiesa attrenavate con l'abside finale ma ha diverse evoluzioni fino ad arrivare alla versione ultima e completa che poi viene distrutta per essere sostituita dal duomo e qui vi faccio vedere da un video del museo dell'opera del duomo proprio le evoluzioni vi faccio vedere solo la parte diciamo che ci interessa quindi ecco qui il duomo con il battistero e se noi entriamo dentro ecco guardate ecco Santa Reparata guardate quanto è piccola rispetto al duomo di oggi questa pianta qui è l'ultima ovviamente l'ultima pianta di Santa Reparata la prima la prima chiesa viene costruita su resti di una domus romana poi abbiamo una fase paleocristiana di cui ci rimangono solo dei mosaici poi una fase alto medievale fino poi ad arrivare appunto alla costruzione finale della basilica romanica che è questa questa è la pianta e vi faccio vedere poi anche l'alzato ora qui vi faccio vedere effettivamente dove doveva trovarsi vedete siamo al confine questa è la porta settentrionale il cardo e il decumano che si incontrano a piazza della repubblica ecco quello che vi volevo far vedere è proprio ecco l'alzato poi di Santa Reparata quindi Santa Reparata in epoca romanica si presentava in questo modo trennavate con le le absidi un portico davanti una cripta e siamo appunto di fronte al battistero che invece vedete è rimasto uguale ecco le mura le mura romane e questa è la pianta e se no questa è la pianta finale se noi prendiamo questa pianta e la mettiamo all'interno del duomo guardate quant'è più piccola rispetto al duomo di oggi perché che succede che Firenza a un certo punto vuole un duomo più grande e maestoso come aveva Siena d'altronde e quindi il comune di Firenza incarica sempre lui sempre Arnolfo di cambio di costruire la nuova cattedrale e lui cosa fa guardate lui circonda inizia a costruire circondando quello che era quella che era l'antica basilica di Santa Reparata cosicché mentre si costruiva la nuova chiesa comunque la basilica di Santa Reparata poteva essere si poteva continuare ad utilizzare quindi lui inizia tra l'altro Arnolfo riesce a costruire anche a progettare il primo pezzo della facciata quindi la prima parte però lui muore all'inizio del 300 e per questo motivo i lavori rimangono interrotti dal 1301 al 1351 quando Francesco Talenti ecco che riprende il progetto ingrandisce ulteriormente il duomo guardate questo è il progetto di Francesco Talenti porta a compimento la cattedrale mancava solo la copertura quindi la cupola che viene poi completata inizio nei lavori di completamento della cupola dal Brunelleschi nel 1420 quest'anno sono 600 anni dall'inizio dei lavori della cupola terminati nel 1434 ma per molto tempo ancora c'è qualcosa di incompiuto del duomo cioè la facciata perché vedete così si doveva presentare allora così si presentava fino al 1587 in realtà solamente con questo pezzo compiuto da Arnolfo poi nel 1587 Francesco primo dei Medici decide addirittura di distruggere questo pezzo realizzato da Arnolfo di Cambio di cui noi abbiamo una ricostruzione all'interno del Museo dell'Opera del Duomo Francesco decide di distruggere tutto perché vuole creare una nuova facciata cosa che non farà mai e bisognerà aspettare solamente l'Ottocento quando Emilio De Fabris progetta e poi realizza quella che è la facciata attuale siamo nel 1873 l'edificio più antico come vi dicevo invece è il Battistero non abbiamo delle fonti delle certe diciamo dei documenti precisi che ci che ci fanno capire effettivamente l'evoluzione e la storia di questo di questo monumento però sono state fatte delle ipotesi che ci dicono che inizialmente il Battistero doveva essere solo una torretta una torretta di questo tipo poi circondata da una recensione recensione che poi viene chiusa in questo modo però ce la dobbiamo immaginare prima di quest'ultima versione senza il rivestimento marmorio e poi all'inizio del 200 viene anche rivestita con questi marmi bianchi e verdi e vedete davanti ancora Santa Reparata attorno al Battistero c'era un cimitero guardate questi sono i ritrovamenti archeologici delle tombe terranee quindi le tombe sottoterra ma c'erano anche dei sarcofagi che si trovavano proprio intorno al Battistero nell'area davanti alla chiesa di Santa Reparata queste sono le tombe terranee ecco vedete questo è un disegno Battistero non ancora coperto completamente con il rivestimento marmorio Santa Reparata e le le tombe i sarcofagi tra l'altro alcuni di questi sarcofagi come questo ci sono ancora oggi sono ancora oggi presenti al Museo dell'Opera del Duomo rimaniamo nella zona di di San Giovanni di Piazza San Giovanni e vi faccio vedere una cosa che è cambiata notevolmente qui siamo in via dei Pecori e questo è veramente uno degli scorci più fotografati di Firenze perché a parte si vede sia il Battistero il Duomo la Cupola e il Campanile poi siamo veramente nella via che ci collega alla stazione quindi il turista che arriva alla stazione la percorre molto spesso e questo scorcio però è presente è visibile sempre dalla seconda metà dell'Ottocento perché inizialmente era coperto da un arco l'arco dei Pecori questo arco qui guardate se noi prendiamo questo edificio come punto di riferimento sempre in quelle fotografie mischiate tra realtà attuale e dipinti di Borbottoni questo qui è l'edificio e guardate questo è l'edificio e noi non vediamo solo il campanile che spunta e la guglia ma non vediamo l'immagine lo scorcio che vediamo noi oggi perché c'era appunto quest'arco l'arco dei Pecori che era ecco qui dipinto di Borbottoni era una famiglia che abitava in questa zona e questo arco praticamente collegava il palazzo dell'Arcivescovado che si trovava in piazza si trova tuttora in piazza Duomo con le case dei Pecori questa famiglia che abitava lì siccome si voleva dare maggior aria e allargare la piazza questo arco viene distrutto ma in realtà proprio l'intero palazzo dell'Arcivescovado ora ve lo faccio vedere viene viene in realtà proprio diciamo tagliato spostato rimpicciolito e eccolo qui come si presenta oggi eccolo eccolo qui al lato appunto vedete ci doveva essere questo arco che oggi non c'è non c'è più e sempre diciamo per dare maggior grandezza alla piazza si fanno anche altre modifiche allora innanzitutto viene ampliata quella che è l'ingresso diciamo di via dei calzaiuoli questa via qui vedete questa via adesso è molto più larga rispetto a come doveva essere alla metà dell'ottocento ve lo faccio vedere sempre in questo dipinto di Borbottoni ecco come doveva essere quindi aveva a lato sempre la loggia del bigallo che è ancora presente però c'era questa torre era molto più stretto no l'ingresso e c'era questa torre questa è una torre era una torre della famiglia degli Adimari una famiglia medievale e prendeva proprio il nome di torre di Guardamorto perché qui siamo proprio di fronte al Duomo e al Battistero e quindi lì in quell'area c'era il cimitero e quindi questa torre prende questo nome tra l'altro nella parte diciamo sotterranea della torre c'era un vero e proprio obitorio dove la compagnia della misericordia si occupava delle autopsie di questi corpi quindi sia per capire le cause del decesso ma soprattutto era anche il loro compito era proprio quello del censimento quindi di censire i vari morti i morti giornalieri nella città di Firenze ecco che poi oggi vedete questo è sempre il mix di ieri e oggi e questa è la visione attuale quindi molto più più larga sempre nella stessa ottica anche la misericordia che appunto vi ho citato prima vedete qui ci doveva essere la torre degli animali che non c'è più e questa è la sede attuale della misericordia di Firenze che prima aveva la sua sede qui nella loggia del Bigiallo poi si sposta qui però inizialmente la sede guardate come doveva essere doveva avere anche questa parte che poi viene eliminata sempre per dare maggior spazio alla piazza ed eccoci qui dove ci porta vediamo in piazza dei Donati ecco che sempre parlando proprio di case torri no? allora guardate la torre di cui vi ho parlato prima proprio la torre degli animali è questa vedete qui c'è Santa Reparata il Battistero e questa è la torre degli animali guardate cosa c'era dietro di lei ce ne erano tantissime altre no? perché Firenze era veramente la città delle case torri la città torrita tra l'altro torri collegate tra di loro vedete perché cosa succedeva? succedeva che siamo intorno all'anno 1000 e Firenze inizia a conquistare mano a mano il contato e quindi le famiglie del contato le famiglie feudali incominciano a trasferirsi in città loro erano famiglie che erano abituate a vivere in maniera fortificata nella campagna e quindi trasportano diciamo questo modo di vivere in città e incominciano a barricarsi nelle case torri anche perché loro trasferiscono in città anche i disaccordi tra di loro che si vanno a mescolare con i disaccordi già esistenti tra l'aristocrazia cittadina e quindi Firenze diventa una gran polveriera dove tutti sono contro tutti le famiglie si riuniscono in gruppi quindi ci si proprio barrica nelle corti che sono circondate dalle varie casitorri delle famiglie consorti cioè le famiglie che condividono la stessa sorte consorte e si passa la propria vita all'interno della corte come la corte dei donati guardiamo ora ci entriamo proprio dentro la corte ecco qui vedete questa è una corte proprio chiusa se noi alziamo gli occhi al cielo oggi lo vediamo così però al tempo ci dobbiamo immaginare che siamo intorno all'anno 1000 1100 1200 nel periodo medievale della Firenze medievale ci dobbiamo immaginare il cielo visto proprio a francobolli a quadratini perché c'erano tutte le case torri che occupavano la visuale e non si poteva assolutamente uscire dalla corte senza essere in pericolo le donne non potevano mettere i piedi fuori della corte uscivano solo al calendimaggio una festa fiorentina perché era veramente pericoloso e anche gli uomini nel momento in cui uscivano guardate questa è proprio una vera e propria fortificazione qui c'è una porta ora non c'è più però c'era si chiudeva veniva sbarrata e nel momento in cui si usciva ci si faceva il segno della croce perché era veramente pericoloso e tra l'altro era anche una se noi torniamo indietro vi faccio vedere una cosa interessante che è questa stanzina eccolo questa stanzina qui era chiamata necessario da qui la parola cesso perché erano i bagni bagni non c'erano bagni non c'erano affognatore c'era una stanzina dove si facevano i propri bisogni che poi si buttavano in strada e i maiali dei frati facevano pulizia quindi immaginatevi la puzza che c'era vediamo dove ci porta a piazza della signoria ecco che qui facciamo un altro salto ancora nel tempo quindi stavamo nella Firenze Medievale ritorniamo nella Firenze Romana perché qui in piazza della signoria siamo sempre al confine vedete qui si intravede al confine con diciamo della della colonia romana quindi qui passavano le mura e l'intera piazza l'intera piazza attuale della signoria era completamente occupata dall'impianto termale vedete queste sono le terme c'era poi il teatro al posto dove oggi c'è Palazzo Vecchio ed erano veramente enormi erano le terme imperiali ecco questa la piazza attuale e questi gli scavi archeologici che dai quali appunto si è potuto poi risalire al modello delle terme imperiali che così dovevano essere vedete occupano l'intera l'intera piazza e questo è il modellino dove si si può vedere un pochino meglio come come dovevano essere i termi che ovviamente avevano il frigidarium quindi la vasca di acqua fredda calidarium acqua calda e poi tutta una serie di servizi gli spogliatoi le palestre e c'era un sistema di riscaldamento sia degli ambienti che dell'acqua molto moderno cioè praticamente venivano veniva scaldata l'aria calda in delle stanze di combustione che si trovavano sotto terra e poi quest'aria calda saliva attraverso dei tubuli di terracotta e riscaldava che passavano sotto il pavimento e poi anche lungo le pareti quindi scaldavano pavimento pareti quindi tutta la stanza e poi fuoriuscivano dal soffitto dal tetto ecco le terme e invece appunto adiacenti alle terme che sono queste qui c'è l'attuale palazzo vecchio il teatro con la cavia semicircolare e dietro vedete l'anfiteatro perché appunto questa era che abbiamo visto all'inizio non era questa la zona quindi il teatro per gli spettacoli teatrali per le tragedie e l'anfiteatro per la lotta tra i gladiatori ecco la diciamo la pianta del teatro sovrapposta alla pianta di palazzo vecchio e questa invece era la fullonica perché accanto alle terme in piazza della signoria c'era anche la fullonica che cos'era la fullonica era un luogo dove si tingevano le stoffe ma anche si lavavano quindi era una sorta di tintoria e questa probabilmente più che un semplice negozio era proprio una una fullonica diciamo che riforniva un po' tutta la la colonia che prestava servizio a tutta la colonia perché era molto grande e quindi abbiamo visto diciamo cosa c'era in piazza della signoria nel periodo romano nel periodo medievale invece piazza della signoria si presentava allora diciamo per raccontarvi come era lascio le parole a Conti un cronacista diciamo dell'epoca che così ce la descrive nel corso dell'ottocento e probabilmente così è rimasta diciamo nel corso dei secoli e dice entrando si rimaneva storditi dal baccano e dal frastuono come se si fosse a una fiera di campagna la gente non poteva quasi passare tant'era la quantità dei ciarlatani dei saltimbanchi cantastorie giocatori di prestigio casotti di burattini e carri con scimmie ammaestrate e venditori di semenza e lupini di sapone dei lumini di notte e quelli coi panieri dei dolci e c'era sempre attorno una gran folla di garzoni di bottega insomma la piazza era un gran bazar in particolare sotto la tettoglia dei pisani che è questa che vediamo qui questa tettoglia vi faccio vedere dove com'è la piazza attuale eccoci qui siamo nel palazzo delle generali dove adesso c'è il caffè revoir e qui doveva esserci appunto la tettoglia dei pisani eccola nel dipinto di borbottoni perché la tettoglia dei pisani perché era stata costruita dai prigionieri pisani dopo la battaglia di Cascina del 1364 quando Firenze sconfigge Pisa poi qui sempre nella seconda metà dell'ottocento sempre nei lavori di rimodernizzazione e della rimodernizzazione della della città succede che vogliono diciamo quella confusione medievale deve essere effettivamente quella confusione medievale deve essere effettivamente eliminata per dare un maggior rigore alla piazza un altro elemento che non c'è più un altro elemento molto importante anche dell'epoca romanica quindi ritorniamo indietro intorno all'anno 1000 1100 è la chiesa di San Pierschieraggio qui siamo in via della Ninna questi sono gli uffizi e noi di San Pierschieraggio abbiamo solamente queste due archi con le colonne però veramente non ci rimane nient'altro solo all'interno degli uffizi ci sono altri resti sempre colonne con capitelli e qualche affresco guardate come doveva essere la chiesa doveva avere un po' lo stesso impianto di Santa Reparata quindi con il portico davanti tre navate le absidi perché siamo comunque nello stesso periodo quindi sono delle chiese romaniche e in particolare la chiesa di San Pierschieraggio è molto importante perché era la sede dei priori prima che questi avessero la loro sede in Palazzo Vecchio e quindi qui anche Dante che è stato priori di Firenze parlerà con insomma facendo i suoi discorsi politici era veramente un monumento molto importante nella vita della Firenze medievale e andiamo ora diciamo in quella parte che è quella che è stata maggiormente che ha subito delle modifiche maggiori durante gli anni di Firenze capitale ed è anche il centro della città quello che ha una storia più antica allora ritornando alle nostre immagini che abbiamo visto anche all'inizio quando vi dicevo che all'incrocio tra il Cardo del Decumano avevamo il Foro l'incrocio dal Cardo del Decumano nella conformazione attuale della città cade proprio a Piazza della Repubblica quindi così si doveva presentare in epoca romana con il Foro eccolo qui che cos'era il Foro questa piazza pavimentata circondata da dei portici colonnati che doveva svolgere delle funzioni di ritrovo diciamo era un po' il centro politico economico e commerciale della della città e anche religioso perché dietro diciamo immediatamente accanto al Foro c'era il Campidoglio quindi la zona dove sorgeva il tempio più importante della città in questo caso a Firenze il tempio dedicato alla triade capitolina di Giove Giunone e Minerva guardate allora noi ora ci dobbiamo immaginare di trovarci qui ora salto un attimo questo poi ci torniamo e vi faccio vedere questa ricostruzione ecco vedete questa è una cartolina sempre di Corinto Corinti questa è quella struttura che abbiamo visto al centro del Foro quel portico al centro del Foro ed ecco di fronte a noi il Campidoglio con il Tempio questi appunto i colonnati il Tempio che si doveva trovare dove adesso c'è l'arco di Piazza della Repubblica lo vedremo quando andiamo proprio dentro la piazza e queste le terme perché dietro al Tempio c'erano proprio le terme capitoline c'era un impianto termale anche qui in Piazza della Repubblica ecco che lo vediamo qui si intravedono nel modellino come accennato all'inizio poi diciamo sui ruderi della Firenze romana ecco che si viene a formare la Firenze a creare non nascere la Firenze medievale e il Foro Romano diventa il Camporeggio che vuol dire diventa quella zona dove venivano edificate le case delle famiglie più ricche e potenti sulla sua area quindi del Camporeggio si accampò nel 300 l'arte dei beccai che erano i beccai i macellai e l'arte dei beccai gli fece costruire la beccheria quindi una specie di porticato sotto il quale si trovavano i deschi della carne macellata quindi un macello e anche un mercato della carne poi di fronte alla beccheria sorgerà il mercato del pesce la loggia del pesce e poi nei decenni successivi i deschi si trasformarono via via in baracche e botteghe e i macellai vennero affiancati da altri rivenditori quindi i pezzicagno gli ortolani i fornai poco alla volta anche nelle stradine adiacenti in realtà alla piazza si iniziano ad accalcare banchi carretti ceste tende di tutti i colori tettoie improvvisate quindi per secoli proprio questa zona di piazza della repubblica è stata proprio un dedalo di vie tortuose di piazze di logge di chiese di pozzi di vicoli di larghi che costeggiavano che cosa però costeggiavano le case torri delle famiglie più importanti e qui si vede la torre della famiglia Caponzacchi e quella della famiglia degli Amieri e però anche ovviamente perché erano quelle case che si trovavano qui dal periodo medievale e poi anche però diciamo le botteghe e le case più umili della gente poi che aveva i suoi banchi al mercato quindi diventa un quartiere molto popolare guardate vi faccio vedere ecco dove doveva trovarsi questi punti indicano quattro chiese che adesso non esistono più che segnavano un po' quella che era l'area del mercato centrale siamo proprio in piazza della Repubblica guardate come era prima era proprio con questo dedalo di vie tortuose e come oggi invece molto più ordinata e lo abbiamo accennato più volte nel corso di questa presentazione ma vedremo meglio come si arriva a quest'ordine ecco piazza della Repubblica oggi quindi vedete qui ci dovevano essere le due torri che abbiamo visto prima nel dipinto la torre di Caponzacchi e degli Amieri al centro la beccheria e la loggia del pesce e poi vedremo da questa parte il ghetto ma intanto prima di parlare del ghetto vi volevo dare un'idea un po' di quello che doveva essere effettivamente il mercato vecchio cioè veramente un qualcosa che abbiamo perso a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Leggitori e testicciolai che pelavano le testo d'agnello dopo averle scurtate nell'acqua a bollore della caldaia lì nella strada. Grazie a tutti. Guardate qui, questa era la beccheria dove c'erano i deschi della carne macellata e questa è invece la loggia del pesce, al centro proprio della piazza. E eccoci. No, scusatemi, vi volevo far vedere anche come poi si è trasformata, no? Perché ecco la colonna dell'abbondanza, questa colonna esiste già dal tempo dei romani perché segnava proprio il punto d'incrocio tra il cardo e il decumano. Poi in realtà non è quella romana, viene distrutta e ricostruita più volte. Per un periodo c'è stata anche una scultura di Donatello sulla colonna. Oggi è una colonna che ospita sulla sua sommità una copia di una scultura settecentesca di Foggini che oggi invece è ricoverata all'interno dei posti della cassa di risparmio di Firenze. E guardate intorno alla colonna, no? Tutte le botteghe, quando le cronache ci dicono come tanti pulcini intorno alla chiozza. Ed ecco poi nel corso dei vari lavori di smembramento poi della piatta, come si doveva presentare, vedete non c'è più la beccheria, c'è ancora la loggia del pesce. Ed ecco tutte le baracche anche intorno, e le botteghe intorno alla piazza. Ecco questa è la loggia del pesce. E poi vi faccio vedere quello che doveva essere il ghetto, perché accanto proprio al mercato, vedete se qui c'era il mercato vecchio, qui in questa zona c'era il ghetto. Il ghetto, questo quadrilatero chiuso, fatto costruire nel 1571 da Cosimo I dei Medici, il quale relega gli ebrei proprio all'interno di questo quartiere. Loro non potevano uscire, le porte venivano serrate la sera, riaperte la mattina, in realtà loro non potevano neanche possedere le case, le catapecchie in realtà dove abitavano, perché era un quartiere, questa è la mappa, vedete un quadrilatero, molto confusionario, pieno di vie, tortuose e soprattutto intricate, perché diciamo che è un quartiere che appunto, siccome era destinato un po' alla segregazione degli ebrei, non viene curato dall'amministrazione pubblica, quindi non ci si preoccupa della rete fognaria, non ci si preoccupa della ristrutturazione degli edifici, dell'igiene, quindi è veramente lasciato a se stesso. Tra l'altro era anche un quartiere che proprio perché aveva tutte queste vie, viuzze, vicoli, poi anche i vari edifici erano collegati l'uno all'altro, quindi anche magari i delinquenti che scappavano dai birri, una volta entrati all'interno del ghetto si consideravano salvi, perché non li avrebbero mai più trovati là dentro, in quel dedaro di via, e quindi diventa anche una zona un po' malfamata. Nel momento in cui gli ebrei possono finalmente andarsene, e stiamo alla metà dell'Ottocento con il Lorena, quindi dobbiamo aspettare veramente tanto, gli ebrei a quel punto vendono perché già con Cosimo III erano riusciti a poter acquistare perlomeno le case dove abitavano. Con il Lorena possono andarsene, ovviamente loro erano anche, diciamo, nella maggior parte dei casi benestanti, quindi nel momento in cui hanno la possibilità abbandonano quelle catapecchie. Vi faccio vedere delle immagini, questo era l'ingresso del ghetto, questo è sempre un dipinto di borbottoni, la piazza della fonte, guardate la condizione nelle quali si trovano queste abitazioni, e qui tutta una serie di scorci del ghetto, e nel momento in cui loro possono andarsene, ovviamente se ne vanno, e vendono queste case a due lire, a chi poteva permettersele. Quindi diventa veramente un quartiere povero, degradato e malfamato. Ed era accanto al mercato, che comunque era una zona molto popolare, come tutte le zone dei mercati. Di conseguenza, nel momento in cui il ghetto e il mercato si trovano al centro della città, una Firenze che è diventata capitale, non si può permettere un degrado del genere. E quindi, come vi ho accennato all'inizio, iniziano dei lavori di ristrutturazione e riorganizzazione anche del centro. Non solo di allargamento della città, quelle che abbiamo visto, il piano Poggi che abbatte le mura, ma anche uno sventramento proprio del centro, per mano, diciamo, il cui progetto è affidato a Luigi del Sarto. Ci sono state anche tutta una serie di polemiche, comunque, riguardo a questo sventramento, perché moltissimo è andato perso. Veramente sono state distrutte 26 strade, 20 tra piazze e piazzette, 18 piccoli, 341 immobili ad uso abitativo, 451 botteghe, 1778 famiglie sono state allontanate dalle loro abitazioni. Però gli interessi economici erano troppo alti e quindi si prosegue questo progetto. Guardate, quando viene smontata proprio la loggia del pesce, la piazza, come si presentava, l'abbiamo vista anche prima in quegli anni, e quando viene poi, siamo negli anni comunque, abbiamo detto, di Firenze Capitale immediatamente dopo, però comunque c'è il re, no? Siamo negli anni del Regno d'Italia e c'è il re Vittorio Emanuele II. Quindi guardate l'inaugurazione della nuova piazza con la scultura equestre del re Vittorio Emanuele II, una scultura che oggi si trova all'imbocco delle cascine, nella piazza Vittorio Veneto, appunto, alle cascine. Eccola qui, la nuova piazza. Rispetto a prima, rispetto a questa immagine, ovviamente, guardate, una e due, è di sicuro molto più ordinata, molto più precisa, però veramente tanto è andato perso. E così viene costruito questo arco, dove appunto, l'abbiamo visto prima quando parlavamo del Campidoglio, che recita proprio l'antico centro della città da secolare squallore a vita nuova restituito. Vi faccio vedere dove è stata messa adesso la loggia del pesce. Siamo in piazza dei Ciompi, è stata proprio smontata e ricostruita, recentemente restaurata. e poi vi volevo lasciare con, diciamo, le immagini proprio di questo gruppo di fotografi di Rifredi che ci fanno fare un po' un viaggio tra la Firenze di oggi e la Firenze del passato. Siamo in piazza dei Ciompi Siamo in piazza dei Ciompi Ecco, questa è la mostra che si è tenuta nel 2015, appunto da Rifredi d'Immagine. E questi sono i nostri, io vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione, la partecipazione. Vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti di gennaio, sempre per quanto riguarda i tour online. Il 10 gennaio, l'arte in tasca, i capolavori sulle monete italiane. Il 17 gennaio, i colori nell'arte, simboli, storia e valore. Il 24 gennaio, gentileschi, amore, guerra e arte. Orazio e Artemisia a confronto. Vi ricordo poi che se volete ci potete seguire sui nostri social, Facebook e Instagram e consultare il nostro sito www.participarte.it dove potete rimanere aggiornati un po' su tutte le nostre iniziative. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi aspetto alla prossima.